Già nel primo tempo potevamo ribaltare la situazione con un po' di fortuna in più. Si è fatto di un approccio alla partita dopo Vicenza, un approccio alla partita migliorabile, però anche questa volta probabilmente troppo contratti nel primo tempo. Una ripresa, grande mole di gioco, però come abbiamo iniziato? Sì, quello non si può mai sapere prima di una partita. Noi entriamo in campo sempre per partire al massimo, però le situazioni di gioco a volte non ti consentono di esprimerti al meglio e ci metti magari un po' a entrare in gara. Poi il calcio è fatto di 11 giocatori, quindi non essendo uno sport singolo bisogna trovare la giusta coesione fra tutti. Quindi ci abbiamo messo un po', ci abbiamo messo dei minuti, poi credo che appunto come abbiamo detto tu al secondo tempo siamo riusciti a esprimere il nostro calcio. Probabilmente non è un caso che tu sei qui oggi. Insieme a quel topo di De Luca non tenevamo tra cose più di chiede. Sì, credo di essere entrato abbastanza bene in gara. Purtroppo ha freddo, infatti i primi minuti ho fatto un po' di difficoltà perché non mi ero praticamente scaldato, però poi mi sono trovato bene con i compagni e penso di aver dato il giusto impegno in campo. C'è chi dice che alla lunga il contributo di lui si diventa sempre indispensabile. Diciamo che ormai sono due anni che parto così e io mi impegno sempre in allenamento, mi sono impegnato quando il mister mi ha fatto giocare 20 minuti, mi sono impegnato ieri quando purtroppo per l'infortunio di Massimo sono dovuto entrare dopo 20 minuti. Quindi vado avanti così e poi vedremo quanto sarà utile il mio prego. Questo cambio tattico è stata una sorpresa per noi o è stato anche per voi? Il defending è spostato fuori dagli attaccanti? Sì, queste sono situazioni che decide il mister. Probabilmente ha spostato Marino per una questione di dare più una mano in fase difensiva, visto che comunque c'erano soprattutto Mammarella che era un terzino che comunque è famoso nella categoria per essere molto pericoloso con i cross in fase offensiva, quindi poi il mente perché ha pensato questo. Un'occasione del gol, un po' di dormita generale. Sì, come ho detto prima sono cose che possono succedere, l'importante poi è la reazione. Ripeto, anche nel primo tempo, subito dopo abbiamo avuto un paio di occasioni, una con Stevanovic, una con Caputo, con la stessa traversa di Marino. Purtroppo se non si sbaglia nel calcio le partite finirebbero tutte 0-0, penso. O si sbaglia o si fa un euro-gol, quindi è la normalità nel calcio, non bisogna drammatizzare troppo. Prima del pareggio del Bari si poteva temere che la partita di ieri potesse andare come per la precedente, cioè tante occasioni sprecare e rimanere con un fondo di mostro. Quando si sprecano tante occasioni è più il rammatico di tanto spreco oppure la consolazione comunque di riuscire a creare delle occasioni? Diciamo che entrambe le cose, sicuramente poi a fine partita quando ci fermiamo un attimo mette fredda a parlare, dispiace perché le occasioni sono state tante come è stata evidente anche nella partita di Vicenza, che ci siamo smangiati due gol e all'azione dopo ne abbiamo subito uno. Il rammatico è tanto, però c'è la concebolezza di averle create e magari nella prossima partita interranno. Marco, il tuo rapporto è stato decisivo nella scorsa stagione, soprattutto per la gavarcata finale. In questo momento il tecnico vede Massimo Donati davanti a te, cioè tu come la devi in questa situazione, anche a proposito di quello che è stato negli ultimi mesi dello scorso campionato? Quello che ho imparato è che ogni anno ha una storia, ogni anno ha i suoi giocatori, ogni anno ha il suo allenatore, ogni anno ha il suo staff, quindi è come se si ripartisse da zero. Le scelte del mister momentaneamente sono state altre, però come ho detto prima io mi impegno durante la settimana per conquistarmi il posto. Se poi devo giocare 20 minuti o una partita titolare, il mio impegno sarà sempre quello. Marco, dicevi prima della scelta di Marino, messo l'inizio davanti per ostacolare un po' l'inizio di Mammarella, però dall'altra parte ti chiedo, tu giovi di titolare, un insieme ispiratore, oggi a mezz'aria gioca Volski, che l'anno scorso era una pirentina che aveva la seconda punta. Che cosa pensi? Oggi mi devo fare il mazzo per due? Io penso che Rafa sia un giocatore abbastanza offensivo, che però possa tranquillamente fare la mezza punta. Sicuramente ha grandi doti e può esprimerle al meglio, secondo me anche in quel ruolo lì. Poi, ripeto, le scelte del mister sono sicuramente pensate durante tutta la settimana, quindi non voglio stare a fare polemica su quello che ha deciso lui. Hai detto che ogni anno fa la storia a sé, però non è un po' curioso che ogni anno sembra quasi che nelle scelte degli allenatori parti quasi in seconda linea e poi pian piano riesci a riguadagnarti quel tuo posto? Sì, è una cosa che mi fa un po' ridere, cioè mi fa sorridere, però così, diciamo che solo alla fine solo con Torrente, appena arrivato la cosa mi è stata più semplice, però non mi spaventa anche per come sono caratterialmente, non ho mai avuto paura dei confronti, della lotta, del conquistarsi il posto, quindi ogni allenamento voglio dimostrare che posso giocare. Potrebbe essere anche il fatto che praticamente tu sei un punto di equilibrio, quasi vieni utilizzato come un punto di equilibrio per sistemare un po' la situazione tattica? Sì, diciamo che è quello che da quando sono a Bari mi è stato sempre chiesto di fare e secondo me è quello che so anche fare al meglio, ecco, quindi ogni giocatore diciamo ha le sue caratteristiche, sicuramente io e Massimo siamo due giocatori che giochiamo nello stesso ruolo, che però abbiamo caratteristiche un po' diverse e questo sta al mister scegliere quali sono più utili a lui per la partita che segue. Giocando meno, ma è forse anche l'opportunità di vedere la squadra come un occhio esterno. Rispetto all'avvio del campionato e a qualche volentica che si è già creata, anche perché tu sei uno, direi che ci sarà un corso. Sì, ma io credo che in una squadra dove comunque si è scelto di prendere molti giocatori nuovi, non è così semplice e automatico, anche se questi giocatori sono molto forti singolarmente, non è che se si mettono in campo il gioco viene da solo. Ci vuole del tempo, ci vuole di amalgamare bene le situazioni, ma non bisogna drammatizzare troppo la situazione, perché alla fine abbiamo fatto due vittorie, due pareggi, due sconfitte, un tabellino di marcia. Non magari come si aspettava il pubblico che pensava che magari vincevamo tutte o altro, però è chiedo del tempo e di non aver fretta e di non metterci pressioni. 1200 tifosi a Lanciano, vuol dire che avete ancora un credito? Sì, sicuramente, infatti vorrei soprattutto ringraziare i tifosi che sono venuti fino a Lanciano, un po' dispiace quando a fine gara si sentono certi cori, però ripeto, vorrei che l'ambiente, i tifosi, la stampa, tutti quanti ci lasciassero lavorare con serenità, con serenità per preparare al meglio ogni singola partita, perché noi pensiamo di partita in partita e poi a fine anno teneremo le somme se la stagione è stata positiva, deludente o altre. A che cori per riferimento? Meritiamo di te. Per chi come te è già qui da un po' di tempo, quanto hai visto le differenze comunque in un ambiente che si è trasformato in diversi momenti a seconda delle situazioni societarie, quanto effettivamente influisce sullo spogliatoio il fatto che l'ambiente attorno a voi reagisca in maniera diversa? Sicuramente in tre anni, ormai sto iniziando la quarta stagione qua, ho capito che questo è un ambiente che può darti tantissimo, ma allo stesso tempo quando crei delle aspettative poi pretendono molto e sinceramente quello che siamo riusciti a creare l'anno scorso ci ha dato una mano, ci dà una mano, perché avere 1200 tifosi di lunedì sera a Lanciano credo che poche altre squadre possono avere un tifo a seguito del genere. Quindi come ho detto prima chiedo a loro di essere comunque presenti, di sostenerci e di capirci perché sicuramente può e ci dovrà dare una mano soprattutto anche nelle partite in casa e pubblico come è successo l'anno scorso. Cosa c'era in quell'abbraccio collettivo con Mangia? Questo non lo so, probabilmente era una cosa personale con soprattutto De Luca che è andato a cercare il mister e quindi ora non so di preciso cosa stava pensando De Luca in quel momento, io mi sono unito al resto del gruppo per festeggiare tutti insieme. Antonello? Marco, nonostante la gente di vari stili donati, ha accorto con valori solo di donne, però provizio, vanno in giro sentendo il foglio uomo della gente, per la gente però provizio è sempre provizio, spesso sente dire, nonostante ci sia un donatore che è in capo e che gode della stima di tutti quanti, come se è con lasciar fuori te, tu avverti questa fiducia della gente, si parla spesso del fatto che lasciar fuori i romenzi comunque pesa un po' ecco, è la mia impressione sentendo il ruolo in popolare. Ma sì, io ho sempre sentito tantissima stima da parte dei tifosi, del pubblico e della gente che incontro per strada, questo sì mi ha sempre fatto molto piacere anche perché credo che in tutte le occasioni che sono sceso in campo mi si può rimproverare magari di aver sbagliato un passaggio ma non di non averci messo l'anima, il cuore fino a che ne potevo, quindi credo che il tifoso ha nei suoi ricordi questo di me e mi fa molto piacere. Poi ripeto, le scelte le fa il mister e decide lui. Sì, come ho detto prima, io e Massimo abbiamo caratteristiche diverse, magari lui può aiutare più nel gioco aereo, io posso aiutare più su altri aspetti, quindi è normale che se gioca uno ci sia qualcosa in più da un lato, se gioca un altro ci sia qualcos'altro. Va bene a tutti, grazie.